E ben ritrovati a Polis, puntata speciale pasquale in compagnia del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Buonasera Presidente, ben trovato. Buonasera. Sei mesi di Francesco Acquaroli a Presidente della Regione Marche, ma anche sei mesi di pandemia. Ecco, come li ha vissuti e qual è stato il momento più difficile? Beh, diciamo che sono comunque stati giorni e settimane molto intense. Sei mesi di Francesco Acquaroli alla guida della Regione, un anno di pandemia. Quindi questa fase della pandemia è stata sicuramente molto più pesante perché è tornata a novembre come un incubo, non è mai definitivamente scomparsa e poi a metà di febbraio ha fatto una ricomparsa fortissima con la cosiddetta terza ondata, ma che in realtà era un'ondata che si sommava alla seconda che non era mai terminata. Quindi molto impegno per cercare di mettere in campo tutte quelle iniziative che possono essere importanti sia sulle azioni di tracciamento del virus. Abbiamo per due volte potenziato il tracciamento. Non so se vi ricordate, ma nel mese di settembre, ottobre, quando andavamo a vedere i tamponi fatti quotidianamente, eravamo intorno ai 1.500, 2.000, 2.500. Oggi, durante la cosiddetta terza ondata, abbiamo superato più volte gli 8.000 tamponi fatti e abbiamo dopo questa fase ancora potenziato ulteriormente con altre 30 unità la possibilità di tracciare, perché tracciare è l'elemento fondamentale che è il pre-elemento che ci permette di mettere in campo le misure di mitigazione dopo o meno misure di mitigazione. Ecco, Presidente, qual è stato però il momento più difficile in questi sei mesi? Difficili, complicati sono stati tanti, però abbiamo sempre cercato di agire con raziocinio, guardando i dati oggettivi, cercando di seguire specificamente quello che ci dice la scienza e cercando di interpretare anche nella migliore maniera possibile quello che è il sentimento del nostro territorio. Quindi cercare di chiudere laddove la chiusura è necessaria, cercare di consentire la possibilità di lavorare laddove è possibile lavorare, perché riteniamo che la crisi pandemica e la salute siano fattori assolutamente primari, ma insieme alla salute c'è sicuramente un fattore che è quello del lavoro, che poi è un fattore che ha dei svolti come la sanità sulla tenuta socio-economica del nostro territorio. Ecco, proprio su questi temi, il bilanciamento tra la necessità di lavorare e la prevenzione della salute si sono generate tante polemiche, molte delle quali sono rimbalzate Presidente anche sui social. Ecco, com'è essere Presidente della Regione ai tempi dei social? Ci sono tanti leoni da tastiera, lei riesce a rispondere a tutte le richieste che le arrivano e comunque lei utilizza questo mezzo per informare la popolazione. Guardi, io ho molto rispetto di tutti quelli che si esprimono, capisco la rabbia, capisco l'esasperazione, capisco anche la grande confusione che si accavalla su quelli che sono i provvedimenti di tipo nazionale, su quelli che sono i provvedimenti di tipo regionale e quindi la gente è oggettivamente stanca e in maniera indiscriminata cerca delle risposte anche qualora le risposte, anche laddove le risposte non sono riconducibili a Regione o anche qualora la Regione non può nulla e io questo lo comprendo, quindi per me la critica anche quando è maleducata no, ma quando è anche pesante è sempre uno stimolo a fare meglio perché sappiamo che purtroppo in questi momenti le difficoltà ci sono e ci sono anche le critiche che fanno parte del ruolo istituzionale che noi ricopriamo. Ecco Presidente, ogni settimana si parla molto di questi colori che di fatto permettono la sopravvivenza di tante categorie e ora dopo Pasquetta finalmente si torna arancioni. Sono passati ormai svariati settimane quando abbiamo preso i primi provvedimenti nella provincia di Ancona e poi nella provincia di Macerata e poi a caduta Fermo e Pesaro infine Ascoli che però è stato un provvedimento di carattere nazionale. Il contagio sta scendendo molto anche se ancora è molto elevata la pressione sui ospedali, quindi sicuramente davanti a una colorazione arancione noi dobbiamo continuare a tenere la massima attenzione nel nostro comportamento individuale. Presidente, lei concorda con la scelta del Premier Draghi di sopprimere le cosiddette zone gialle? Ma guardi, io comprendo la volontà di mettere in sicurezza con la vaccinazione la popolazione il prima possibile e poi riaprire in maniera più strutturata. Però la verità è che noi togliamo la speranza ai cittadini e a tantissimi imprenditori di poter vivere in una condizione più accettabile la loro attività economica, le loro giornate e questo credo che sia sbagliato perché io sarei più per responsabilizzare i cittadini, davanti a una curva che scende, davanti a una società che ha comportamenti giusti, adeguati e che rispondono alle norme prescritte, credo che quando i risultati lo consentano sia giusto riconoscere a loro la possibilità di un'operatività maggiore. Il principio della meritocrazia, il principio del riconoscere in maniera oggettiva la situazione, il principio di adeguarsi in maniera bellissima a quella che è la situazione che noi viviamo. Credo che questo sia stato in questi mesi anche una speranza effimera per tanti perché poi la zona gialla comunque ha delle restrizioni molto importanti, però ha consentito tanti di poter vivere questo inverno e questo autunno durissimi con la prospettiva di poter comunque avere un'opportunità in più. In questa maniera si rischia di esasperare ulteriormente l'esasperazione che si respira in giro e la rassegnazione che c'è in giro, cioè al di là dei comportamenti anche virtuosi delle persone si rischia di punirli a priori a prescindere. Presidente, dai colori al tema caldo di questo momento, l'altro tema caldo è quello delle vaccinazioni. Come si procederà dopo Pasqua? Perché questo è un po' quello che interessa alla popolazione marchigiana. Sono tutti in attesa della somministrazione. Quali saranno i prossimi step? Innanzitutto una premessa. Nella nostra regione è un'operazione come in Italia e in Europa, una operazione così importante, così massiccia, non si era mai registrata recentemente. Quindi mettere in campo, in piedi, una macchina che possa nel giro di pochi mesi vaccinare oltre due milioni di persone, perché è vero che siamo un milione e mezza, ma gli aventi diritto, cioè coloro che possono accedere alla vaccinazione, sono circa un milione e duecentomila persone. Ma tantissimi avranno, utilizzeranno un vaccino che ha il richiamo. Quindi alla fine si tratterà di circa due milioni di inoculazioni. Se non li superiamo questi dati andremo comunque molto vicini. Ecco, in questo senso io credo che sicuramente qualche disguido, qualche contrattempo, come già stato nelle settimane scorse, potrà esserci nelle settimane future. Tutto non è prevedibile e soprattutto anche la consegna del vaccino e il cambio del tipo di vaccino da utilizzare. Ricordiamo che AstraZeneca all'inizio era per i cittadini, per la popolazione sotto i 55 anni. Poi ci hanno detto che poteva essere sotto i 65 e poi anche per gli over 80 che non avessero delle condizioni di vulnerabilità, patrocie preesistenti o comunque comorbidità che condizionassero sulla scelta del vaccino. Quindi si tratta di un percorso che abbiamo iniziato non senza difficoltà, però nonostante tutto stiamo adeguando i punti di vaccinazione da dove hanno dimostrato delle carenze. Stiamo cercando con i medici di medicina generale, abbiamo raggiunto un accordo, stiamo cercando di raggiungere i domiciliari, tutti coloro che non possono regarsi nei punti di vaccinazione. Stiamo predisponendo un accordo con le imprese per la vaccinazione gratuita e nei posti dei lavoro e questo è importante ricordarlo perché questo tipo di strumento ci consente di moltiplicare i punti vaccinali e di dare una grande possibilità in più per mettere in sicurezza più persone possibili anche nei posti di lavoro. Questo lo dico facendo una specifica perché a volte sento nelle discussioni un po' di confusione. Non è che toglieremo i vaccini ai over 70, ai disabili, ai vulnerabili per darli alle aziende. Quando noi avremo un numero di vaccini importante, questo si prevederà nelle prossime settimane che potrà accadere. Allora invece di non utilizzarli perché la struttura sanitaria regionale non sarà in grado di fare 25-30 mila vaccini al giorno insieme ai medici di famiglia, preferiamo coinvolgere altri soggetti che ci aiutino nella campagna di vaccinazione. Un po' il modello statunitense, Presidente, come si è fatto in tante altre nazioni. È un modello dell'efficacia, credo che sia il modello del coinvolgerci nel rispetto delle procedure e delle regole rispetto ad un'azione che non serve solo alla regione, ma serve a tutti per creare quella famosa immunità di massa, per restituirci una parte della normalità che abbiamo perduto in quest'ultimo anno, per cercare di mettere in sicurezza le fasci più deboli, per cercare di mettere in sicurezza la popolazione, per cercare di alleggerire la pressione sugli ospedali e soprattutto per cercare di rimettere anche in condizioni di poter lavorare le tante categorie economiche che sono state danneggiate e penalizzate dalla pandemia. Lei parlava di pressione sugli ospedali, qual è la situazione oggi dei nosocomi, delle marche? È sicuramente una situazione di pressione importante, abbiamo visto in questi mesi assolutamente numeri in terapia intensiva, semi intensiva, ricoveri nelle strutture ospedaliere, nei pronti soccorsi molto importanti. Una situazione quasi assimilabile alla prima ondata e l'ho detto prima, mi piace ribadirlo, in realtà la terza ondata è una seconda ondata che non è mai finita, cioè noi quando a novembre abbiamo avuto la seconda ondata siamo partiti con le terapie intensive dove eravamo zero ricoveri. Oggi noi quando abbiamo avuto la terza ondata avevamo già 75 persone, 70 persone, 72 persone, 78 persone che in quei giorni erano già ricoverati in terapia intensiva. Quindi arrivare a 150 è stato più semplice e più immediato rispetto a quello che poteva essere il dato di partenza che ci penalizzava e ci condizionava moltissimo. Così in tutti gli altri reparti. Quindi abbiamo dovuto con le nostre strutture ospedaliere supportare una terza ondata che è arrivata a ridosso di un'ondata che non era stata mai smaltita e completata. Ecco, facciamo un passo indietro, Presidente, sui vaccini. Si sa qualcosa in merito ai numeri delle dosi che arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per le marvi? Ma guardi, si parla di centinaia e migliaia di vaccini, però io preferisco restare in maniera oggettiva a quelli che ci vengono consegnati e nella prospettiva, non dico immediata, ma nella prospettiva più a breve termine. Però non dobbiamo farci trovare impreparati laddove poi questi numeri importanti di centinaia e migliaia di vaccini dovessero arrivare. Quindi lavorare per preparare la macinazione di massa, anche coinvolgendo più associazioni, imprese, sindacati, più realtà possibili, però dall'altra parte cercare di tenere i piedi per terra per non illudere nessuno. Tornando agli ospedali, il dibattito è molto aperto sulle nuove strutture ospedaliere che dovevano nascere in tre province importanti, quali quella di Ascoli, Pesaro e anche Macerata. Che fine faranno questi ospedali? Saranno realizzati? Ma guardi, noi partiamo da un presupposto. Il presupposto è quello che non siamo qui per peggiorare la situazione, ma per migliorarla. Le strutture ospedaliere saranno realizzate, e già stiamo discutendo su come mettere mano alla scelta delle strutture, come realizzarle e anche nel cercare di stabilire le procedure che devono portare alla realizzazione delle strutture. Dall'altra parte, insieme a questo lavoro così importante, c'è quello della scelta del modello sanitario che deve condizionare una struttura, perché le mura sono importanti, le attrezzature sono importanti, ma anche il modello di riferimento è importante. Noi crediamo che il modello dell'ospedale unico sia un modello di fatto superato anche con la pandemia, ma già di fatto era superato da prima, perché mostra una carenza nella medicina del territorio che noi non ci possiamo più permettere. Per noi è fondamentale arrivare ad avere delle strutture sanitarie che garantiscano le eccellenze, ma anche una rete di territorio, una rete ospedaliera che sappia fare la prevenzione, sappia curare l'emergenza urgenza, sappia fare tutte quelle attività di medicina del territorio che sono indispensabili per cercare di limitare l'accesso alle strutture ospedaliere e cercare di costruire una cultura della medicina, una cultura della sanità, una cultura della salute che è fondamentale per garantire i servizi, ma anche per innescare dei processi virtuosi nel nostro territorio. Per quello che riguarda la Pasqua, turisticamente sarà un momento davvero complicato per le attività del nostro territorio, pensiamo a stabilimenti balneari che riaprivano proprio in questo periodo, pensiamo anche alle strutture alberghiere Presidente, quindi diciamo una Pasqua difficile e disastrosa per tutti. Sono previsti aiuti anche regionali a sostegno di questa categoria. Guardi, noi abbiamo in queste ore innescato una riflessione che abbiamo ritenuto necessaria, una riflessione che deve far guardare le istituzioni, anche le istituzioni regionali alla situazione che purtroppo stanno vivendo tante, troppe categorie nel nostro territorio regionale. Non è la chiusura del marzo dell'anno scorso, dove il lockdown improvviso davanti a una pandemia che è spuntata dal nulla, ci ha fatto stringere tutti intorno al rispetto bedissimo delle regole per cercare di capire cosa ci stava avvenendo. Oggi noi abbiamo una chiusura in zona rossa che è durata alcune settimane in una regione, in una nazione dove già da un anno, da oltre un anno, siamo in restrizioni. Quindi è una serie, sicuramente si è innescato una serie di esasperazioni giuste, legittime, perché chi non lavora però è tenuto a pagare le tasse, è tenuto a dover comunque pagare i contributi, è tenuto a pagare le bollette e non può sicuramente fronteggiare da solo quella che è questa difficoltà. In questo senso c'era tanta attesa rispetto al decreto sostegno, in questo senso c'è tanta attesa rispetto al decreto che dovrà uscire nei prossimi giorni dal governo, ma riteniamo che anche la regione debba fare la sua parte. Per questo stiamo cercando di riperire un numero di risorse il più importante possibile da mettere a disposizione delle categorie che non hanno potuto avere il ristoro del decreto sostegno perché non ci rientrano, ma che nello stesso tempo non hanno potuto lavorare nel mese di marzo perché costrette dalle restrizioni regionali e nazionali a non poter lavorare appieno. In questo senso credo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni definiremo sia l'importo, sia le modalità di erogazione e sia i soggetti a cui potranno essere erogati queste risorse. Sicuramente non saranno risorse che da sole cambieranno il destino di queste attività, però credo che sia importante anche seppur in minima parte contribuire alla difficoltà di quelle aziende, alla difficoltà di quelle imprese che hanno visto precluso, per colpa non loro, la loro capacità di azione. Ecco Presidente, che estate sarà quella della regione Marche anche in termini di promozione? Abbiamo visto anche il nuovo testimonial Roberto Mancini e su cosa si punterà dunque per cercare di attrarre nuovi flussi turistici o confermare quelli che solitamente visitano le Marche? Stiamo iniziando un lavoro abbastanza serrato sotto questo punto di vista, la scelta del testimonial che è un testimonial che a noi sta parecchio a cuore perché è marchigiano, è una figura Roberto Mancini che non ha mai negato e mai smesso di frequentare le Marche, nonostante sin da giovanissimo sia per motivi professionali stato chiamato a vivere, a risiedere in altre realtà, è una figura che non ha mai nascosto il suo attaccamento per le Marche, è una figura che ci rende orgogliosi perché ha sempre saputo tenere un grande atteggiamento professionale, conosciuto praticamente in gran parte del mondo perché i suoi successi sono arrivati in Inghilterra, la sua presenza sul campionato russo, in altri campionati stranieri e in Italia e in Europa, quindi un grande campione dentro e fuori il campo, con lui abbiamo stabilito questo accordo e lo ringrazio per la scelta di collaborare con noi e per il fatto di aver dato questa disponibilità in maniera autorevole a questo percorso e lo ringrazio perché veramente è una sfida che speriamo di condividere insieme, la scelta del testimonial ma non solo, le azioni che noi vogliamo mettere in campo sono quelle di far risaltare a livello nazionale e internazionale le potenzialità che la nostra regione ha e che deve riuscire assolutamente a far conoscere anche agli altri, al di là dei confini marchigiani. Quindi la ricerca di un mercato internazionale qualora possibile, ma ancora per quest'estate sicuramente non abbiamo queste certezze, stiamo cercando dei modi per collegarci sicuramente ai mercati del nord Europa, ai mercati che sono quelli della Russia, che guardavano già in passato all'Italia, alle marche come una meta desiderata. Dall'altra parte stiamo cercando con la creazione della Cenzia per il turismo e l'internazionalizzazione con la legge sui borghi e l'accoglienza diffusa di ridare vita a quello che è il grande patrimonio dei nostri borghi storici, che rischia un degrado importante e che noi vogliamo fermare rilanciandoli proprio dal punto di vista turistico, commerciale e col grande patrimonio culturale che noi abbiamo a disposizione. Sicuramente tutto questo non potrà essere fatto da qui al mese di maggio, però stiamo iniziando un percorso che speriamo veda sempre di più la nostra regione protagonista. Però io voglio rimarcare un aspetto, le Marche è l'unica regione che si declina al plurale in Italia, è una regione straordinaria che sembra tanto diversa tra le varie province, in realtà è una grande unicità e una straordinaria unicità. Noi siamo l'unica regione che non ha un grande polo attrattore, ma che ha tanti poli che da soli attraggono. Questo ci deve responsabilizzare rispetto a un'azione comune, a una maggiore sinergia, una capacità di vederci in squadra e non di metterci sempre in una estrema competizione tra di noi. Noi vinciamo, vinciamo le sfide sul turismo, vinciamo le sfide sull'internazionalizzazione, vinciamo le sfide sulla capacità di reazione e di ricostruzione di un modello, di riferimento, di un grande sistema di riferimento se riusciamo a lavorare in squadra. Ecco, quindi fare sinergia. Presidente, prima lei parlava dei borghi dell'entroterra, ci sono però anche quelli feriti dal sisma, c'è una seduta straordinaria che avete previsto il 13 aprile, perché l'avete voluta e soprattutto il tema è sempre quello dello spopolamento, il fatto di evitare che questi borghi implodano su se stessi tra terremoto e pandemia? L'abbiamo voluta perché riteniamo che sia importante, l'abbiamo voluta e c'è anche una riunione che abbiamo voluto con tutti i sindaci del cratere, perché vogliamo che a sei mesi al nostro insediamento, pandemia permettendo, comunque si possa innescare un meccanismo che cerchi di guardare non solo alla fase della ricostruzione, ma alla fase del rilancio post ricostruzione, quindi il livello infrastrutturale, il livello economico e il livello sociale, perché a 5 anni, 4 anni e mezzo dal sisma credo che sia importante non solo dare una prospettiva sulla ricostruzione di un'abitazione o la ricostruzione di un'attività economica, ma sia fondamentale ridare anche un progetto per i tempi che purtroppo non hanno consentito a chi è residente in quelle zone di poter appunto costruire da solo un'opportunità per la propria vita, un'opportunità per la propria professione. In questo senso sicuramente c'è un cambio di passo dal punto di vista della ricostruzione, io voglio ringraziare tutti quelli che si stanno operando, dal commissario Lignini, il subcommissario, al nuovo responsabile dell'USR, ringrazio anche l'ex responsabile dell'USR Spuri che è andato in pensione per il lavoro che stanno mettendo in campo e in questo senso è fondamentale però mettere in campo subito e farlo capire anche al Governo centrale quelle che sono le nostre richieste, le nostre esigenze per rilanciare non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista economico e sociale questi territori colpiti. Parlando di infrastrutture ci colleghiamo a una necessità che arriva dal sud delle Marche, quello di in qualche modo veder realizzata questa terza corsia anche nel tratto terminale della nostra Regione. A tal proposito Presidente ci sono delle novità e soprattutto che estate ci aspetta, ci saranno cantieri, ci saranno restringimenti perché turisticamente è una questione importante che gli operatori sentono di voler affrontare i colleghi, di avere in qualche modo delle rassicurazioni. Non dipende tutto dalla Regione, per quello che dipende dalla Regione noi abbiamo già fatto un incontro con la società autostrade e ci torneremo prima all'inizio della stagione estiva perché vogliamo scongiurare tutti quelli che sono stati disguidi e i contrattempi che hanno condizionato pesantemente con file chilometriche lunghe ore e ore di attesa le scorse stagioni. Questo speriamo di scongiurarlo, insieme a questo speriamo di riuscire a ottenere il più possibile risposte concrete rispetto alla realizzazione della terza corsia, che credo che non veda una preclusione da parte della società autostrade ma che dipenda molto anche dal prolungamento della concessione, cioè si tratta quella della terza corsia di un'opera molto importante che credo sia legata all'eventuale prolungamento da parte della concessione, della parte dello Stato. Presidente, com'è il rapporto con le opposizioni in Consiglio regionale? Io cerco sempre di essere costruttivo e quindi è sicuramente un rapporto aperto quando c'è un atteggiamento costruttivo, altrimenti non è che si chiude il rapporto, non abbiamo purtroppo neanche il tempo in pandemia di andare a polemizzare o a rispondere a atteggiamenti che non rispondono a quelle che sono le esigenze dei cittadini marchigiani, con tutto il rispetto di tutti. Perché l'accusano sempre di prendere ordini da Roma? Ma guardi, probabilmente non trovano altro. Ma non è così? Ma non può che non essere così, cioè in che cosa io dovrei prendere ordini da Roma? Io ho un grande rispetto e una grande considerazione di tutti i leader politici della coalizione di centrodestra, che hanno altrettanto rispetto di noi, dei marchigiani e del territorio marchigiani. Credo che c'è un'interlocuzione sempre serena e leale, come avviene con tutti, e credo che un'accusa deve sempre essere anche calata per terra, debba trovare dei riscontri. Mi porti in un riscontro dove è testimoniato che la giunta che io ho l'onore di guidare sia condizionata esternamente. Io in realtà vedo un'autorevolezza della politica marchigiana nel cercare di affermare gli interessi dei marchigiani, dove sicuramente ci sono le dinamiche di appartenenza partitica, ma c'è innanzitutto e soprattutto una dinamica di appartenenza al governo di una regione e quindi alla tutela degli interessi dei marchigiani. Come trascorrerà la sua Pasqua? Ma guardi, spero di poterla trascorrere serenamente in famiglia. Ecco, lei è molto geloso del suo privato, non rivela quasi mai nulla della sua famiglia, dei suoi amici, ecco, di quella che è tutta la sua sfera privata, come mai? Perché credo che ci debba essere una dimensione pubblica che è giusto che ci richiami a rispondere per quello che noi facciamo in pubblico, ma è giusto pure che alla fine ci sia una sfera privata che non debba soffrire o subire quelle che sono le dimensioni pubbliche. Totalmente non è mai possibile, però è giusto secondo me anche saper discernere e dividere. Che cosa le è mancato di più, non come Presidente, ma come uomo, come cittadino marchigiano in questa pandemia? Mi è mancato molto la possibilità di poter stare insieme alle persone. Io sono per carattere una persona molto vocata all'espansione, al dialogo, al confronto, allo stare insieme, anche a frequentare magari le compagnie di amici o comunque le persone. E questa limitazione degli affetti, questa restrizione degli affetti, è una restrizione che alla lunga si fa sentire. Perché credo che per quanto noi possiamo lavorare in digitale, possiamo utilizzare tutti gli strumenti che la tecnologia, grazie a Dio, ci dà, però dall'altra parte noi abbiamo una limitazione importante, cioè quella di non poter più vivere delle esperienze comuni. Siccome tantissime, secondo il mio punto di vista, delle nostre attività hanno un risvolto esperienziale, l'esperienza si trasmette in maniera diversa tramite i canali digitali piuttosto che in una riunione. Il saper cogliere anche nelle riunioni che facciamo o nella nostra quotidianità un gesto, un aspetto che appartiene a una dinamica fisica, è completamente diverso rispetto a che farlo per il tramite di un computer, per il tramite di una televisione, per il tramite di un cellulare. Senza nulla togliere alle tecnologie, io credo che la nostra vita normale, perché come l'abbiamo vissuta fino a un anno fa, sia un valore importante da restituire presto e prima possibile alla società. Ecco, in chiusura, Presidente, un augurio di buona Pasqua da parte sua a tutti i nostri telespettatori, condito magari da un po' di speranza. Ma sicuramente noi dobbiamo avere una grande speranza, la speranza che io sono convinto, almeno spero di non sbagliarmi, ma non sono convinto, quindi voglio spingermi nel dirlo che la fase peggiore di questa pandemia è passata, rispetto a un anno fa, quando non avevamo i dispositivi di protezione individuale, non sapevamo minimamente quello a cui andavamo incontro, e anche rispetto all'estate scorsa, quando la corsa a riaprire è bella, però ci ha fatto anche forse sembrare ed essere superficiali rispetto al pericolo che veramente questa pandemia ci avrebbe mostrato lì a poco con la seconda o la terza ondata. Non dobbiamo fare lo stesso errore, dobbiamo essere consapevoli del fatto che la pandemia non è superata totalmente e non sarà mai superata totalmente, ma che piano piano tornerà alla normalità. E in questo senso, in un ritorno graduale alla normalità, dobbiamo restare attenti e restare forti nell'insegnamento di questo anno, ma anche riuscire ad assaporare di volta in volta le opportunità che ci proietteranno verso appunto maggiore libertà e gradualmente ritorno a una normalità dove la pandemia speriamo sia completamente assorbita e non dico dimenticata, ma riusciata alle nostre spalle. Grazie al Presidente Francesco Acquaroli per questa intervista e auguri di buona Pasqua a lei e insomma a tutta la sua famiglia, a tutta la maggioranza e a tutto il Consiglio regionale da parte di Vera TV. Grazie a lei, grazie a Vera TV e grazie a tutti i telespettatori che hanno pazientemente ascoltato la nostra intervista. Arrivederci. Grazie a tutti.